Salomu questa volta mette in mano a Pettow, è ancora servito l'ex Varesino, attacca il centro, scarico per Brandt che ha il suo bel da fare contro Hayes, bel movimento difesa zona Pistoia per provare ancora a mettere in difficoltà l'attacco Canturino, palla che gira sul perimetro, si prende il tiro dalla mia distanza e fa bene West Clark si attende l'uscita ancora di Salomu sul lato destro, attacca ancora Collins verso il centro, poi il tiro difficile su una gamba sola, tutta la mia distanza Collins sul lato sinistro, ben tenuto però da D'Ercole, allora si va ancora a esplorare Burnell che attacca appena in centro riapre per la torre che si scontra con Whittle, palla che schizza e finisce ancora in mano allo stesso Whittle che riapre per Pettoway e fino in fondo, va a schiacciare e porta Pistoia sul più 8, 24 a 16 Taudel contro Pecchia, fa la ribaltata a Burnell, Pecchia esce in angolo, sarebbe anche libero, Burnell lo ignora che rimette tutto in parità, quota 35, servito ora con qualche difficoltà, Wilson consegna a Camaro Young che si alza nel verniciato segna che viene anticipato da Daudel, può spingere nella transizione l'ex di giornata, riapre bene per Landy che lì ha postato per il suo tiro, segna anche questa, tripla per Clark, per Wilson, attenzione frazione di passi, serve Collins che riapre per Burnell, bella lettura per Burnell che si ferma a metà strada, che può subito trasformare la palla recuperata in un canestro in transizione e lo fa tirando sulla testa di Wes Clark, 56 a 46 in favore della Oriola, Wes Clark tripla forzata contro Della Rosa ma spegne i fischi, Salumu sul lato sinistro, mette palla per terra contro Jeremiah Wilson, segna un gran canestro con il fallo Pistoia all'intervallo, come spesso succede però in molte partite, ribaltamento per Camaro Young, tripla, fede a posto, questo è il suo tiro Camaro Young che rimette la palla in mano a Wes Clark, blocco di Kevarius Ace che gli apre in autostrada, la sfrutta bene Wes Clark Pettwell, blocco ancora cantonale di Angus Brand, Pettwell viene ben chiuso da Kevarius Ace, si prende la tripla con 4 secondi allo scadere L'ultimo tiro per l'acqua San Bernardo, Jeremiah Wilson dovrà tirare da lontanissimo, pallone che tocca soltanto il tabellone e quindi finisce qui L'ultimo tiro per l'acqua San Bernardo, Jeremiah Wilson dovrà tirare da lontanissimo, pallone che tocca soltanto il tabellone e quindi finisce qui